Facciamo un focus veloce sulle nuove canne da traina Turner. Sono disponibili in tre misure, la 8, la 12 e la 20 libre. Per tutte le esigenze di pesca che vanno dalla traina leggera sotto costa, come abbiamo fatto noi oggi, alla traina un pochino più impegnativa, col vivo, al pesce al dentice, alla cernia, fino anche a ricciole, ma anche, direi, al light drifting, al drifting all'alletterato magari, o alla traina con artificiali pesanti, a 5-6 nodi, insomma. Abbiamo provato anche quelle. Sono canne leggerissime, con anellatura acid, quindi spiralate, come vi abbiamo già spiegato, il che garantisce che il filo non venga mai a contatto col fusto e che la curvatura e la piega della canna sia sempre ottimale. veramente leggere e divertenti. Molto, molto, bisogna dire molto divertenti. Siamo divertiti, soprattutto con la 8 libre, che con i pesci di oggi era la più indicata. L'impugnatura in eva, comodissima, per le prede più impegnative.